Musica Buongiorno, bentrovati lunedì 30 settembre 2019, ultimo appuntamento del mese, primo della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa. Lunedì come sempre dedicato nella seconda parte allo sport, al calcio in particolare con i servizi che vi proporremo delle partite giocate ieri dalle formazioni abruzzesi in Serie C con il Teramo battuto a Monopoli, poi tutte le gare di Serie D, ma parleremo anche del Pescara in vista del derby di domenica prossima ad Ascoli. Andiamo per ordine, apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani locali, siamo al centro, l'edizione di Pescara, il titolo di apertura riguarda la cronaca contro mano sull'asse attrezzato, tre feriti. È accaduto ieri sera, ragazza alla guida di un'auto si schianta contro un bus di ritorno da una gita, tre feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, ma poteva andare peggio. È stato quasi un miracolo che questo incidente abbia avuto alla fine un bilancio tutto sommato non grave. Dicevamo dello sport, del calcio e del Pescara, la falsa partenza in campionato, il Pescara riflette in vista del derby. Vediamo anche le altre notizie, Pescara picchiato in piazza, ventenne in ospedale, poi sulla Riviera Nord via il palazzo di Sette Piani, ruspe in azione da oggi. Vediamo ancora qualche titolo di sport, disfatta Mila nel direttore tecnico dei rossoneri Maldini, fiducia a Giampaolo. E poi il calcio dilettantistico, superleccese trascina il penne del fino Flacco Porto, batte i nerostellati in basso. Parliamo anche di politica, il ministro del lavoro provenzano a Lanciano per partecipare alle giornate dell'economia, più lavoro in Abruzzo ha assicurato il ministro. E poi ancora due notizie, Pescara caldo record nella giornata di ieri ma anche negli ultimi giorni, tutti al mare anche se è autunno. E poi sosta selvaggia, multa a raffica all'aeroporto, rimosse 65 auto. Andiamo nella parte alta della pagina per vedere in particolare un titolo che riguarda la politica abruzzese. Il leader della Lega Salvini in Abruzzo non decide su Fioretti. L'assessore messo in discussione dal coordinatore regionale Bellachioma per il momento resta al suo posto. Vediamo la prima pagina di Chieti, Ranciano Vasto, il ministro più lavoro in Abruzzo. Ritroviamo il titolo, questa volta in apertura della visita a Lanciano del ministro del lavoro provenzano. Aiuti alle aziende, ai giovani dice, chi emigra deve poter tornare. E poi il calcio di Serie D, Palumbo rialza Lavastese e Festa Laragona 2-1 con la Sangiustese. Guardia Grele grave dopo lo schianto, la madre tieni duro. E poi vediamo ancora il calcio di Serie D, Chieti primo capo a Materica. Il Lanciano frena con il Nereto 1-1. Il risultato finale, vediamo la prima pagina di Teramo del centro. Malore in crociera muore, un ingegnere 71enne. E poi Natale, addobbi e luci ancora più ricchi a Teramo. Vediamo poi a proposito di Teramo, quello che è accaduto ieri per i biancorossi, lo dicevamo in apertura, un brutto Teramo strapazzato dal Monopoli che si impone grazie alle reti dell'ex biancorosso Jefferson. Poi Serie D, Notaresco e primo Giulianova. Un altro pareggio, Notaresco che passa in casa della Re Canatese allenata dall'ex attaccante del Pescara Federico Giampaolo. Ieri per i due fratelli Giampaolo non è stata una grande domenica. Marco Giampaolo sconfitto con il suo Milan, Federico con la sua Re Canatese. Ospedale di Teramo, vedete in basso, nuove cure per il mal di testa, terapia all'avanguardia con elettrostimolazione e anestetici. Tortoreto stanziati 300 mila euro per la vecchia discarica. Santo Nofrio di Teramo, referendum fra i residenti, bocciato il senso unico. Andiamo a vedere la prima pagina di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, sempre del centro. L'Aquila es propri post-sisma, raffica di indennizi. Avezzano sangue infetto, il Tar ordina il risarcimento. E poi l'Avezzano calcio, rompe il digiuno, batte in casa la Jesina e nelle prossime ore ci sarà l'ufficializzazione del nuovo tecnico che è Del Grosso. Promozione, l'Aquila vince, adesso l'Avetta è a tre punti. Vediamo ancora delle notizie che riguardano l'Aquila ma anche la Valle Peligna. Psicosi rissa in centro storico dopo la recente incoltellata. Polizia in azione, l'allarme rientra. E poi Sulmona, ecografo nuovo in memoria di Simone. E poi Ferrovia veloce per Roma, nuovi consensi proprio nell'area Peligna. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Partiamo con la politica, vedete il titolo Lega, il conclave con Salvini, l'assessore Fioretti in bilico per l'incarico alla moglie, il vertice durato fino a notte. Il capitano parlerò io con Marsiglio, oggi il carroccio deciderà a livello. regionale. Sulmona, ponte, allarme e vibrazioni anomale. E poi alta velocità, Pescara-Roma nei piani di Ferrovie dello Stato. Spostiamoci più in basso. L'Aquila, le spine della ricostruzione, cinema massimo, cantiere in ritardo. E poi Pescara, movida violenta, ragazzo aggredito mentre cammina all'alba di ieri. Andiamo più in basso per vedere quest'altro titolo che riguarda questa tragedia accaduta in crociera. Pescara, morto un Giuliese, giallo a Tenerife. Vediamo poi nella parte alta della pagina i richiami delle notizie di sport, di calcio in particolare. Pescara, la testa è già ad Ascoli. Zauri rinuncia al suo tridente, dunque Pescara che potrebbe cambiare modulo e lasciare, abbandonare il 4-3-3. Serie C, disastro Teramo, si arrende a Monopoli dopo 15 minuti. Serie D, Avezzano, tre punti d'ossigeno. Notaresco, Pineto e Bastese. Ok, è stata una giornata tutto sommato positiva, quella di ieri, per le formazioni abruzzesi di Serie D. Siamo all'edicola nazionale, ai titoli dei giornali più importanti quotidiani oggi in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera per vedere quali sono i titoli di apertura della prima pagina. Manovra e lite tra gli alleati, Conte convoca i leader, i Renziani se sale l'IVA votiamo contro, Asse con il Movimento 5 Stelle. Poi vedete anche in alto, richiamo di sport del Corriere della Sera, Milan travolto dalla viola, esce tra i fischi di San Siro. Vediamo poi a centro pagina qualche altro titolo. Le elezioni in Austria, il leader dei popolari riconfermato cancelliere, il ritorno dei verdi. Kurz trionfa in Austria, dove si registra il crollo dell'ultradestra e poi missione USA Pompeo in Italia. Si tratta sui Dazi. Vediamo il fatto, il PD come i 5 Stelle scopre le multe per rivolta Gabbana. E poi dal caffè al cioccolato, i cibi che spariranno, il clima impazzito, le conseguenze. E poi welfare zero, sempre più madri, lasciano il lavoro. Vediamo la Repubblica, facciamo votare i ragazzi di Greta, le sfide civili. Intervista a Enrico Letta, le urne a 16 anni sui diritti, il PD deve imporsi. E poi Kurz spegne l'ultradestra, il giovane leader dei popolari trionfa. E al 38% crollano gli estremisti, successo dei verdi. Vediamo poi il mattino di Napoli, IVA e scontro nel governo, Conte Di Maio e Renzi frenano, Gualtieri il ministro dell'economia sui rincari, vertice notturno a Palazzo Chigi. E poi il richiamo che riguarda lo sport, il riscattino, così il mattino parla della vittoria del Napoli senza brillare con il Brescia. Poi Austria, vedete la vittoria dei moderati di Kurz, crolla l'ultradestra. Libero, carte di credito, fregatura, usarle costa più del contante, scrive Libero. E poi tutte le contraddizioni del PD di Zingaretti, vedete questo articolo. E poi la donna che libererà l'Umbria dai comunisti, Donatella Tesei, candidata del centrodestra. Ora vediamo il messaggero nazionale, aumenti IVA, scontro nel governo, abbiamo visto anche titoli analoghi sugli altri quotidiani. Poi Austria, il trionfo del centrista Kurz, dopo gli scandali, crolla l'ultradestra. E poi effetto caos, rifiuti, topi nei palazzi, siamo a Roma, boom, disinfestazioni. Poi Roma, il trascinatore Gieco, Lazio, abbraccio da tre punti, vincono le due formazioni romane nel massimo campionato di calcio. Vediamo il sole 24 ore del lunedì, le porte girevoli del fisco, tasse in e out con la manovra. Dunque in questo articolo, l'articolo che troveranno i lettori del sole all'interno del giornale, si parla di tasse che spariranno e di altre che invece arriveranno. E poi bonus, l'auto costa meno in otto regioni, questo è l'altro titolo del sole 24 ore. Vediamo la stampa, il quotidiano torinese, Renzi e Di Maio, l'IVA non si tocca, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, il nuovo partito di Renzi, compatti sul no agli aumenti selettivi. Marattini, questo governo è nato per evitarli e poi voto in Austria, trionfano a Curse Verdi, crolla l'ultradestra. Vediamo anche il tempo, che Ipocriti ora aumentano l'IVA, scrive il quotidiano romano. E poi Eterno Cav, Cavaliere, si tratta di Berlusconi, che spegne 83 candeline. Secolo.it, Guerra Rossa sulla Rai, comincia dal Tg1 lo scontro Renzi-Zingaretti e il governo proroga la G.com per coprire le manovre. Vediamo la verità, erano tutte balle, l'IVA aumenta e ci costerà 5 miliardi, scrive il quotidiano La Verità. E poi altri brigatisti con il reddito di cittadinanza, questo è il titolo dell'articolo più in basso. E poi ancora, a fondo pagina, Umbria, tutto il PD, scandalo per scandalo, l'articolo del quotidiano La Verità. Il secolo XIX, il quotidiano genovese, il governo alla battaglia dell'IVA, ministro Gualtieri non escudo ritocchi, devo trovare 23 miliardi, Renzi e Di Maio contro gli aumenti selettivi. E poi, tracollo Genova, Gattuso in pollo, la superba riscopra il suo orgoglio. Si parla del Genova, della giornata non positiva, il turno di campionato non è stato positivo per le formazioni genovesi in questo caso. Lasciamo i quotidiani nazionali, torniamo a parlare di questioni di casa nostra, ripartiamo dal centro, dalla resa dei conti all'interno della Giunta, ma soprattutto, il caso di dire, nel carroccio abruzzese, nella Lega, Salvini non decide, Fioretti per ora resta al suo posto. Come assessore, il blitz del leader della Lega, Martinsicuro, comincia in ritardo, all'incontro ci sono tutti, anche l'assessore a rischio. Vediamo poi più in basso, eccellenze, il futuro della Sevel nell'agenda del governatore, il piano di Marsiglio e dell'assessore alle attività produttive, Mauro Febbo. Il futuro dell'economia regionale, il piano del ministro Provenzano, ieri a Lanciano, più lavoro e fondi all'Abruzzo, la tre giorni dedicata alla memoria dell'economista De Cecco, chiusa dall'ospite eccellente, ovvero dal ministro che ridà speranza ai giovani andati all'estero, devono poter tornare e a sud investiremo qui. Savina svela Brusca, ha preso con un trucco l'intervista al poliziotto che tanti anni fa, abruzzese, arrestò l'esponente di rilievo Brusca della mafia siciliana. Siamo alle pagine della cronache, partiamo da Pescara, Lungomare Nord dopo 16 anni, demolizione, palazzo di Sette Piani, l'Uspia, lavoro per un mese, vedete nella foto lo scheletro del palazzo che sarà abbattuto e a novembre tocca all'ex Enaip, il sindaco Masci sparirà entro Natale. 20 anni picchiato e ferito in centro, il giovane è stato soccorso in piazza Santa Caterina e trasportato in ospedale per essere medicato, indaga la polizia, porta nuova al volante ubriachi, nei guai 5 persone. Sosta selvaggia all'aeroporto, multa e rimozione per diverse auto, 65 sono state multate su 500 macchine e 14 sono state rimosse. E poi le indagini, allergie dopo il pasta a scuola, budino invece dello yogurt. E poi controlli uditivi, oltre 500 visite a Pescara, boom di presenze ieri in Piazza Salotto per l'iniziativa della Maigo Nonno Ascoltami, l'ospedale in Piazza Campagna Nazionale per la prevenzione dell'udito. Vediamo poi l'altra notizia, tutti al mare anche se autunno, temperature estive, spiagge piene a Pescara ma da giovedì il tempo cambia soprattutto, ci sarà un brusco abbassamento delle temperature. La cronaca, ritroviamo la notizia che abbiamo visto in apertura del nostro appuntamento contro mano sull'asse schianto con il bus, tre feriti, l'incidente prima dell'uscita per Porta Nuova dove un pullman si è trovato di fronte alla 500 condotta da una 24enne. E poi ancora, aiuti alle famiglie, siamo a Montesilvano, piano di sostegno del comune per nidi, ludoteche, farmaci e beni di prima necessità. In alto, Francavilla al mare, convegno a Palazzo Sirena, le critiche di Italia Nostra. Siamo alla pagina di Chieti del quotidiano Il Centro, dipendenti in pensione scatta l'allarme, quota centro, il comune a rischio paralisi, emergenza personale, entro il 2020 andranno via almeno in 43, l'assessore Viola decide di tagliare un settore. Il Maruccino assume, ecco, gli ammessi, il teatro svela i nomi dei candidati che potranno partecipare ai colloqui per ottenere un posto di lavoro. A Lanciano, ZTL, una sola multa per violazioni, fotocopia. Siamo alla notizia dell'incidente all'alba dell'altro ieri a Vacri, la mamma di Cristian Tieni Duro di Crescenzo, vent'anni, resta ricoverato in rianimazione, l'appello della famiglia, oggi l'autopsia sul corpo di Enrico Iacovella. Polemica d'Ortona, alunni disabili torna l'assistenza, Montebruno si riparte da domani, ma Marcheggiano accusa. E poi la protesta a Lanciano, vedete il titolo, agenti aggrediti in carcere, scoppia la rabbia dei sindacati. Andiamo nella parte bassa della pagina, Pizzoferrato vieta piatti e posate di plastica, il comune contro l'inquinamento, San Vito Chietino dà l'addio al centenario De Sanctis, oggi i funerali, lutto in paese. Siamo alla pagina dell'Aquila, del centro, le sentenze, dieci anni dopo, es propri post-sisma, max indennizzo, i giudici valutano in mezzo milione i soldi per l'acquisizione di aree per il piano case di Paganica e i MUSP ha coppito. Patuanelli in città, appello per gli ex-intex, il ministro inaugura oggi l'ufficio postale in centro, i ricercatori, la nostra avvertenza è ferma al palo. E poi psicosi nel centro dell'Aquila, panico per la rissa che non c'è, altra allerta, scavalchi a recinto della questura e viene preso. Vediamo la prossima pagina che ci porta nella Marsica, Avezzano, sangue infetto, il TAR, lo Stato Pagini, il ministero ignora la condanna e si rifiuta di erogare un milione agli eredi di una donna morta dopo una trasfusione. Ancora Avezzano, violenza sessuale e parte civile dovrà deporre di nuovo. E poi Celano, lite in piazza tra ragazzi, sono in corso le indagini. Sul Mona, stalking, giovane sotto processo, trentenne accusato di aver rinondato la ex di messaggi e chiamate sgradite. Prato La Peligna avvia le pratiche burocratiche per valorizzare le pizzelle. Siamo alla pagina di Teramo del centro, a Giulianova in particolare, la tragedia in Portogallo, a Tenerife, Malore, in crociera muore, un ingegnere Marcello Coia di Giulianova era sulla costa pacifica con la compagna che l'ha trovato senza vita nella cabina della nave. Andiamo a vedere più in basso, parliamo di sanità. All'ospedale Mazzini di Teramo, cure innovative contro il dolore. Nell'ospedale Teramano interventi d'avanguardia per combattere nevralgie del trigemino e cefalee. Addio ad Aleandri, ex dirigente dell'Università di Teramo, si è spento a Roma a 81 anni. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora possiamo andare a vedere, prima di parlare di sport lo faremo tra poco, le pagine interne del inserto abruzzo del messaggero. Partiamo dalla cronaca di Pescara, ventenne picchiato e quattro patenti ritirate, movida da incubo in città, il pesante bilancio del sabato in piazza Santa Caterina, l'aggressione denunciata dalla vittima al pronto soccorso. E poi ne parlavamo anche prima, spiagge piene nella domenica di sole, il canottaggio regala oro e spettacolo. E poi 500 controlli deludito il successo di Nonno Ascoltami a Pescara in piazza Salotto per questa iniziativa che ha avuto un grande successo. L'Aquila, ritardi del massimo, non bloccano i cantieri, la ricostruzione procede separatamente con messa in sicurezza e adeguamento sismico, coordinamento unico con Villa Fausta con utilizzo congiunto di gru e impalcatura. Poi comune insieme all'università per Amiternum, si parla di questo coordinamento. E poi lavoro, gli ex lavoratori della Intex perplessi sulla visita del ministro Patuanelli. Andiamo in basso, scavalca recinzione in questura e poi si dà la fuga nella notte. Poi mamma non faceva vedere il figlio all'ex, la donna è stata condannata in 13 anni, aveva anche ingaggiato investigatore privato. Andiamo a vedere l'altra pagina della provincia dell'Aquila in questo caso. I sacerdoti neri dicono la messa in latino, originale, funzione nella cappella dell'ospedale nella domenica in cui Papa Francesco ha celebrato la giornata del rifugiato. Due preti extracomunitari hanno dato lezione di liturgia, la consacrazione nel vecchio stile in perfetta lingua antica. Sul Mona Sanità, il sindaco chiede incontro al nuovo manager e poi Carsoli entra contro mano in autostrada e poi fugge. Siamo a Sul Mona, due vibrazioni al ponte chieste tutte le verifiche. Poi Tagliacorso, fratommaso da Celano, le rivendicazioni dei fedeli. Lasciamo anche questa pagina, ci spostiamo a quella di Chieti, una nuova classe dirigente per rilanciare il nostro sud. Siamo a Lanciano in questo caso. Il ministro Provenzano indica la strada per un meridione che non sia solo assistito, voci autorevoli al convegno che si è tenuto nella città frentana in ricordo dell'economista Marcello De Cecco. Andiamo nella parte alta della pagina, ancora Lanciano, violenza dietro le sbarre, ancora un'aggressione in carcere, due agenti di custodia. Finisco in ospedale, poi in università Cervelli di ritorno, università d'annunzio, ingaggia moglie e marito. Andiamo più in basso, ferito nell'incidente di Vacri di Crescenzo, grave ma stazionario. E poi andiamo in basso, ci spostiamo a vasto con la banda della Polizia Erron, San Michele chiude in musica, San Salvo, cagnolini nel canale, salvati dai volontari, alter storie di Ortona raccontate agli alunni. Vediamo la pagina di Teramo del messaggero, Teramo è provincia dunque, di Teramo lega conclave con Salvini, l'assessore Fioretti in bilico, lo stato maggiore del Carroccio riunito fino a tardanotte in hotel a Martinsicuro, il capitano alla fine del summit, Basta Beghe, parlerò con Marsilio. E poi la tragedia in crociera, ingegnere Marcello Coia trovato morto dalla moglie. Manutenzione ospedaliera, pagati gli stipendi ai lavoratori modus. E poi ancora Giulianova, un cannone nella rotonda del quartiere annunziata, infine parco fluviale di nuovo sommerso dai rifiuti, siamo in questo caso a Teramo. Siamo arrivati anche così allo sport dalle pagine del messaggero, allora possiamo aprire la pagina dello sport iniziando a vedere i titoli dei quotidiani sportivi. Partiamo dalla gazzetta dello sport, zero Milan, crollo e terza sconfitta di file, tifosi se ne vanno e Gianpaolo, questo è il punto di domanda per il momento. L'allenatore abruzzese dovrebbe restare sulla panchina rossonera ma molto si deciderà dopo quello che accadrà nella prossima gara in casa del Genoa. Gianpaolo vado avanti, ha detto il tecnico, credo nelle mie idee, Maldini ha la nostra fiducia ma lo dicevamo, sarà decisiva la sfida con il Genoa, spuntano i nomi di Garzia e Ranieri. Vedete la parte della curva nord dello stadio San Siro di Milano ieri durante il match con la Fiorentina dopo il secondo e terzo gol della squadra di Montella, tifosi che hanno abbandonato gli spalti per protesta. Vediamo anche altri titoli, Balotelli, papà in gol, però vince il Napoli, Geco immobile, Roma e Lazio in festa. E poi Lampi di Sensi, Tocchi di Pjanic, Inter Juve sarà una sfida tra cervelli. E allora andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati dell'ultimo turno del campionato di Serie A, vedete, poi daremo uno sguardo anche alla classifica. Sabato tre anticipi, Juventus Pal 2 a 0, Sampdoria Inter 1 a 3, Sassuola Atalanta 1 a 4, le gare di ieri, Napoli Brescia 2 a 1, Lazio Genoa 4 a 0, Lecce Roma 0 a 1, Udinese Bologna 1 a 0, Caglia di Verona 1 a 1, Milan Fiorentina 1 a 3. Questa sera si chiuderà il turno con Parma Torino che si disputerà alle 20.45. Vediamo la classifica, Inter 18 a punteggio pieno, Juventus 16, Atalanta 13, Napoli 12, Roma 11, Lazio e Cagliari 10, Torino 9, Fiorentina, Bologna 8, Udinese 7, Parma, Sassuolo, Verona, Brescia, Milan e Lecce 6, Genoa 5, Spal e Sampdoria chiudono con tre punti. Guardate il Milan che ha un passo dalla zona retrocessione. Vediamo il Corriere dello Sport, la sentenza, Riberì, Giampaolo Travolto è all'angolo, grande protagonista della gara di ieri per i Viola, il giocatore ex Bayern. Vediamo anche un titolo che riguarda la Formula 1, Fettel Leclerc, guerra aperta in casa Ferrari, dunque qualche problema ieri dopo la vittoria del Mercedes. E poi parliamo anche di ciclismo, Trentin, rabbia d'argento, mondiale sfumato, innebolata, Trentin che si era imposto, molti di voi lo ricorderanno, al trofeo Matteotti di ciclismo a Pescara la scorsa settimana, è arrivato ad un passo dalla medaglia, è partito per primo verso il traguardo, ma poi è stato battuto anche a sorpresa da Pedersen. Dunque Pedersen, medaglia d'oro ai mondiali e Trentin, rabbia d'argento, è proprio il caso di dire. Vediamo invece ora tutto sport, ecco il trio meraviglia, si parla in questo caso della Juventus, vedete nella foto Higuain, Ronaldo e Di Bala, ma a tenere banco il crollo del Milan, Gianpaolo traballa, fantastico Ribery, scioviola a San Siro. E poi Barca Juve, Conte a zera il turnover, Inter settimana di fuoco, Inter che giocherà prima con il Barcellona e poi con la Juventus in campionato. Siamo al centro per andare a vedere le prime pagine di sport, prima di fermarci per qualche istante, la prima pagina di sport, falsa partenza, Pescara riflette, Teramo è fatale, l'avvio disastrofo, Tonfo a Monopoli dei Biancorossi. E poi vedete le pagine sulla Serie A, Milan notte fonda e Fiorentina show 3 a 1 per la formazione viola, poi le altre partite, Napoli-Brescia 2 a 1, Lazio-Genoa 4 a 0, Udinese-Bologna 1 a 0, Caglia-Riverona 1 a 1 e poi la vittoria, vedete, con il gol del solido Dzeko della Roma a Lecce. Vediamo anche gli altri sport, Trentin fa tutto bene tranne il finale, lo dicevamo prima, loro va a Pedersen, l'Azzurro lancia lo sprint, ma poi si pianta ai 200 metri. Parliamo anche di ciclismo dilettantistico, Dinella taglia in solitudine, il traguardo apprezza il giovane pescarese, si impone al Powin Cross del Sirente, in basso gli amici della Bici Junior premiati al trofeo, Valle del Tirino. E poi la Formula 1, le Ferrari, Beffa Ferrari, ieri a Sochi in Russia, Hamilton e Lozard di Russia, la Mercedes sfrutta il ritiro di fette e la Virtual Safety Car per fare doppietta, solo un amaro terzo posto per Leclerc. E vediamo la pagina del centro sul Pescara, Pescara a falsa partenza in questa stagione, lo dicevamo prima, negli ultimi cinque campionati solo il Pescara di Marco Baroni fece peggio, fatto peggio del Pescara di Zauri e domenica prossima ci sarà il posticipo al Del Duca contro l'Ascoli, dove servirà una svolta per scacciare la crisi. L'anno scorso Pillon era al secondo posto e con la metà dei gol subiti, Zeman nel 2017 aveva gli stessi punti e Massimo Oddo era a ridosso della zona playoff, dunque per il Pescara urge un cambio di passo. Vediamo quello che è accaduto ieri nelle altre gare del campionato di Serie B, non sono mancate le sorprese con la vittoria del Trapani alla Spezia per 4-2, pareggio tra Benevento e Virtus Centella 1-1, stesso risultato a Verona tra Chievo e Pordenone, e poi successo esterno della Salernitana che è parsa per 3-2 a Livorno. Se il Pescara di Zauri si lecca le ferite, invece la primavera di Le Grottaglie festeggia la vittoria, cala il Tris, Sampdoria K.O., Borrelli, Pavone e Masella in gol. Primi punti per il Pescara allenato da Le Grottaglie. Allora possiamo fermarci per qualche istante, e tra poco torneremo in studio, parleremo del terramo della sconfitta di Monopoli e poi di calcio di Serie D. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6, abbiamo già aperto, avevamo già aperto le pagine di sport, la pagina dello sport prima della pausa, siamo al messaggero per parlare ancora del Pescara, Pescara con la testa già verso Ascoli, subito al lavoro in attesa del derby di domenica, Zauri studia modifiche, potrebbe cambiare modulo. E poi, lo abbiamo visto prima, primavera arriva il primo successo, 3-0 al Sampdoria. E poi calcio a 5, domani di nuovo sul parquet, le formazioni abruzzese, Acqua e Sapone, Colormax, doppio ostacolo laziale. Siamo al Teramo, Teramo nulla da salvare, disastrosa prestazione a Monopoli, padroni di casa vincono 2-0, e dopo appena 8 minuti i giochi sono fatti. Tedino, mi prendo ogni responsabilità, Tomei, ora guardiamoci tutti in faccia, Minelli da recuperare. Vediamo il centro, brutto Teramo, l'ex Jefferson lo affonda, una doppietta del centroavanti brasiliano nei primi 7-6 minuti, consegna al Monopoli una vittoria, mai in discussione. Vediamo quello che è accaduto nel turno di campionato, con la vittoria della Casertana, con il Catanzaro per 2-1, 2-0 della Cavese sull'Avellino, vittoria esterna del Bari sul campo di potenza contro il Picerno, Regina Catania, 1-0, gara, tanto per parlare anche di qualche numero che si è giocata al granillo di fronte ad oltre 12.000 spettatori. Rende Potenza, 0-1, Rieti Paganese, 1-2, e poi Sicula Leonzio, Bisceglie, 2-1, Virtus Francavilla, Ternana, 1-2, Viterbese, Bibonese, 2-2. Tedino, la responsabilità di questo disastro è mia. Parole eloquenti del tecnico, ma spazio alle immagini nel servizio. Viania Cantagalli, Monopoli, batte Teramo, 2-0. E' un 2-0 che fa male quello che arriva a Monopoli. Fa male ovviamente la sconfitta in sé al Teramo, ma fa male anche per come è arrivata, con la squadra di Tedino, incapace di reagire all'1-2 decisivo ad inizio gara, messo a segno dai bianco-verdi. Il diavolo va sotto nei primi sette minuti per due volte, ed è fortunato a non incassarne di più nella restante parte del primo tempo. Dopo due minuti da un'imbeccata dalle retrovie, Gliotti liscia il pallone, che arriva all'ex Jefferson. L'attaccante raccoglie e deposita con un lob alle spalle di Tomei. Passano 5 minuti ed è ancora Jefferson a far male alla sua ex squadra. Il brasiliano è più rapido di tutti a raccogliere un batti e ribatti in aria e firmare il raddoppio del Monopoli. Il Teramo appare un pugile suonato e non riesce a reagire. Al 14esimo, Fella coglie addirittura il palo esterno, mentre al 28esimo ci pensa Tomei a disinnescare un calcio di punizione e calciato bene da giorno. Un minuto più tardi è ancora Monopoli, con uno scambio corto tra Jefferson e Fella, il cui tentativo al volo non inquadra lo specchio. Ad inizio ripresa Tedino opera la rivoluzione. Si passa al 3-4-1-2, fuori Lasic, Mungo, Di Matteo e Cianci, dentro Ilari, Cristini, Tentardini e Magnaghi. Sono ancora però i padroni di casa a farsi pericolosi all'undicesimo, con un tentativo di carriero che finisce fuori. Il termo si fa vedere per la prima volta al 18esimo, con un tiro verso la porta di Bombaggi. L'occasione migliore però capita a Magnaghi al 37esimo, al termine di un'azione partita per un errore di Donnaruppa. L'attaccante Biancrosse però non inquadra la porta. Nel finale il Monopoli tira i remi in barca e la formazione di Tedino ci prova con la forza della disperazione. Ne vengono fuori però soltanto tentativi sterili. Sabato prossimo al Bonolis contro i Rieti la vittoria sarà d'obbligo per rialzare morale e classifica. Partita sulla carta agevole quella che attende il Teramo al Bonolis contro il Rieti battuto in casa dalla Paganese. Lasciamo la Serie C, siamo la Serie D. Male il Chieti a Matelica, gara senza storia 4-0 che non lascia attenuanti con i ragazzi di Grandoni battuti nettamente dalla formazione marchigiana. Mister Grandoni al 91esimo come complicarsi la vita da soli. Allora vediamo nel servizio di Stefano Recanati quello che è accaduto ieri a Matelica. Mezz'ora iniziale fatale al Chieti per uscire sconfitta dal Giovanni Paolo II di Matelica in una gara che ha sancito la prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Mister Grandoni. Il Matelica contro il Chieti cerca il riscatto dopo la sconfitta di Savignano che è costata alla squadra di Battistini la mancata qualificazione al turno di Coppa Italia e si schiera in campo con la formazione Tipo affidando il reparto avanzato a Tomassini con Leonetti, Bugaro e Barbetta a sostegno. Il Chieti arriva a Matelica forte degli 8 punti messi già in cassaforte con il morale altissimo grazie all'imbattibilità in campionato. Grandoni deve fare a meno dell'infortunato Cataglia al suo posto Bacicalupo in mezzo al campo unica novità Pane Casio per Marzola. Pronti via e Matelica già avanti bravo Leonetti a defilarsi sulla sinistra e ad aspettare il rimorchio di Tomassini che aziona il mirino e con un gran bolide trafigge il numero 1 nero verde Camerlengo. Al quarto d'ora scontro di gioco tra Traini e De Santis ad avere la peggio il capitano bianco-rosso che è costretto a rientrare in campo con una vistosa fasciatura alla testa. Il Matelica fa la partita con il Chieti in evidente difficoltà che non riesce ad imbastire trame di gioco pericolose per la difesa a Matelicenze. Così al diciottesimo il Matelica raddoppia dagli sviluppi di un calcio d'angolo e sfortunato il Chieti quando Venneri nel tentativo di spazzare la palla della propria area di rigore colpisce il compagno Camerlengo con il pallone che finisce la sua corsa in rete. Ci vuole mezz'ora per vedere la prima sortita offensiva del Chieti quando il bolide di Bacicalupo si spegne sulla traversa. Due minuti dopo ancora Chieti azione dagli sviluppi di un corner e Traini liberato da Venneri a trovarsi a 2x2 con Urbetis ma quest'ultimo è bravo con l'aiuto del palo a sventare il pericolo. La ripresa inizia subito con due cambi per il Chieti ad entrare sul terreno di gioco sono Bruschi per Vitiglio e Marzola per Bacicalupo. Appena 40 secondi il Matelica può chiudere l'incontro quando Leonetti al volo dall'interno dell'area di rigore strozza troppo il sinistro non inquadrando lo specchio della porta. Risponde il Chieti con una doppia occasione in due minuti al secondo direttamente da calcio d'angolo il mio è entrato Bruschi a colpire la traversa poi Traini al terzo ad avere la palla per riaprire l'incontro ma il suo colpo di testa è deboli per impenserire Urbetis ma all'ottavo piove sul bagnato in casa nero verde quando viene spulso Fantauzzi per doppia ammunizione. L'uomo in più spiana le vie alle ripartenze del Matelica ma ancora da un errore di disimpegno Matelico va vicino alla terza rete e che gol sarebbe stato se la rovesciata di Leonetti fosse finita in rete. Il gol del 3-0 se lo divora ancora il Matelica al 42esimo con Peroni che dopo la parata di Camerlengo a porta spalancata mette altissimo sopra la trasversale. Nel recupero c'è tempo ancora di vedere altri due gol del Matelica il primo porta la firma di Leonetti su calcio di rigore il secondo su classicazione di contropiede e Peroni a trafiggere Camerlengo. Nel prossimo turno il Chieti se la vedrà con il Cattolica mentre il Matelica sarà di scena a campo basso. E dunque la sconfitta del Chieti a Matelica invece si riscatta Lavastese in casa con la Sangiustese pur soffrendo la formazione bianco-rossa batte quella marchigiana per 2-1 vedete il titolo Palumbo rialza Lavastese ma quanti rischi nel finale Amelia potevamo segnare più gol successo importante comunque per i bianco-rossi che dunque tornano al successo allora andiamo a vedere anche in questo caso il servizio è terminata 2-1 tra Lavastese e Sangiustese i padroni di casa si schierano con il solito 3-5-2 con Esposito a svolgere il ruolo di trequartista a ridosso delle punte Dosanto Freda Lonzi ancora fuori dall'undici titolare Vittorio Esposito il quale deve evidentemente ancora recuperare il ritmo partita a causa dell'infortunio che lo aveva deputo nei mesi scorsi fuori dai campi di gioco la Sangiustese dal canto suo opta invece per il più classico 4-2-4-2 nei primi 10 minuti le squadre attraversano la fase di studio reciproco ma col trascorrere del tempo Lavastese inizia a guadagnare campo aumentando il ritmo e l'intensità della gara ma andiamo alla cronaca la prima occasione annotata sul nostro tacquino era di marca bianco-rossa correva il minuto 17 quando Lavastese si rendeva pericolosa con un tiro dal limite di Ravanelli la palla terminava di poco all'alto complice alla deviazione di un difensore marchigiano al 23esimo ancora Lavastese pericolosa con Marianelli che dal limite tentava il tiro a giro a cercare il 7 ma Mangon di testa salvava in angolo 4 minuti più tardi era Palumbo che dalla destra scodellava centro area dove Alunzi di prima intenzione non riusciva a centrare lo specchio della porta il bomber Lavastese però non sbagliava al minuto 39 quando in area strappava letteralmente la palla ad un difensore marchigiano e con un tiro di rara potenza e precisione gonfiava la rete il giusto premio per la squadra di Mister Amelia che aveva provato in diverse occasioni a sbloccare il risultato si andava quindi al riposo con i padroni dei casi in vantaggio per una rete a zero nella ripresa la musica non cambiava era sempre Lavastese che dettava tempi e ritmi di gioco la prima azione la segnalavamo al minuto 19 una grande azione di Pollace che dopo aver fatto fuori i due avversari entrava in area ed appoggiava per Palumbo la cui conclusione da buona posizione veniva deviata in calcio d'angolo due minuti più tardi la sugiustese per venire al pareggio su un presunto fallo non fischiato su Anzini al centrocampo prendeva il via la ripartenza di Marchigiani con Prezzotti servito su una fascia apposta concludeva in diagonale in fondo al sacro il mio entrato Cavotti al minuto 28 ci provava con una conclusione da limite ancora una volta deviata in corner dalla difesa ospite alla mezz'ora però la vastese tornava in vantaggio con Palumbo che penetrava in area e con un preciso diagonale trafiggeva Tudin vantaggio meritato al trentottesimo combinazione sulla sinistra tra i due Esposito con Vittorio che da buona posizione concludeva a fil di palo non passava neanche un minuto che era la volta di Cavotti a far venire i brigidi al portiere rosso-blu in pieno recupero la vastese andava via in contropiede con Stivaletta che entrava in area ma al momento di concludere l'estremo ospite gli godeva lo specchio della porta la cara si chiudeva dopo cinque minuti di recupero positivo per i biancorossi ma indubbiamente bugiardo per quanto espresso in campo una cosa è certa se la squadra di Mister Amelia continuerà su questa falsariga sarà di vero difficile poterla superare e note positive il caso di dire finalmente per l'Avezzano l'Avezzano che batte in casa la Iesina di misura primo successo della stagione per la formazione marsicana aspettando del grosso che nelle prossime ore diventerà il nuovo allenatore della formazione bianco-verde una giornata quella di ieri comunque importante per la squadra marsicana che è riuscita a reagire dopo gli ultimi rovesci di campionato di Coppa che avevano portato anche all'esonero del tecnico Meco Monaco e allora andiamo a vedere il servizio sulla gara dello stadio dei Marsi l'Avezzano rialza la testa e conquista i primi tre punti stagionali ai bianco-verdi è abbassato un lampo di Filippo Franchi per avere la meglio di una Iesina troppo rinunciataria ancora a secco di vittorie al termine di una settimana delicatissima con gli addi di Meco Monaco e Fanti i marsicani rinfraccati anche dall'ingresso in società dell'imprenditore pescarese Vincenzo Serraiocco ritrovano il morale grazie ad una prova di nervi e coraggio che ha piegato la debole resistenza dei marchigiani in attesa di Alessandro Delgrosso quest'oggi avvistato in tribuna il tecnico della Juniors Alessandro Vaccaro disegna un 4-3-3 con la novità cancelli in avanti di fianco a Franchi e Gaeta in mediana spazio al neo capitano Nicola Scras mister Emanuelli si affida al 4-3-1-2 con Enrico a dettare i tempi e Villanova dietro le punte Cruz e Damiano avvio arrembante degli ospiti al nono Enrico raccoglie la sfera da corner rasoiata di poco a lato 40 secondi e Damiano riceve palla dal limite controllo e scarico che finisce tra le braccia di Alonzi al diciottesimo non si plaga l'offensiva dei Leoncelli approvarci a Villanova da piazzato conclusione telefonata per l'estremo Biancoverde la gara diventa soporifera e l'Avezzano sembra ancora accusare l'inizio shock di campionato oltre alle vicende societarie degli ultimi giorni al trentottesimo però arrivano segnali di vita dai marzicani Gaeta ben appostato in aria fallisce il controllo e Cestina la prima azione degna di nota del match in avvio di ripresa Biancoverdi subito all'assalto dopo 60 secondi Franchi raccoglie una conclusione ribattuta da Cancelli e spara alto da buona posizione al quinto replica la Iesina Villanova scarica in porta palla che accarezza la traversa al nono l'Avezzano alza la testa e graffia sulla partita azione che si sviluppa sull'asse Gaeta Franchi col 9 che veste i panni da assistman e fa galoppare Franchi per l'1-0 primo gol in campionato per l'ex Matelica è tutto cuoio e match sbloccato col vantaggio in tasca i Biancoverdi si sciolgono Manuelli inserisce Tomassini per Moricoli Barchiesi per Paialunga e De Rose per Ballardini Vaccaro risponde con Diop per Cancelli e Puglielli per De Angelis nonostante i cambi i Leoncelli non incidono i Biancoverdi si compattano a difesa del vantaggio non subendo occasioni dagli ospiti si scivola quindi fino al 42esimo quando sono proprio i marzicani a sfiorare il raddoppio con il tentativo di Gaeta che viene murato dalla difesa marchigiana finisce con il primo successo in campionato per l'Avezzano che vola a quota 4 superando in un colpo solo Iesina, Fiuggi e Agnonese in attesa del nuovo tecnico del grosso il cui ingaggio potrebbe essere ufficializzato già domani e del nuovo riassetto societario con l'arrivo di Serraiocco i Biancoverdi danno il via forse ad un nuovo inizio bocche cucite in casa Iesina che manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria della stagione e siamo al Pineto anche in questo caso sorrisi per la formazione Bianco Celeste la formazione allenata da Massimo Epifani Orgoglio Pineto Pippi stende il campo basso Molisani scavalcati in classifica paura per Sarrizzu uscito in barella successo di misura per la formazione del presidente Brocco che dunque dà un calcio alla crisi 1-0 il punteggio del Mariani Pavone andiamo a vedere quello che è accaduto nel servizio realizzato per noi da Roberta Di Sante con un gol di Renan Pippi il Pineto supera il campo basso e conquista la seconda vittoria consecutiva tra le muramiche assenze dall'una e dall'altra parte con Cudini costretto a rinunciare a Menna e la barba infortunati all'influenzato Danilo Alessandro nel 4-3-1-2 Caffiero fa coppia centrale con Dalmazzi in difesa mentre Candellori e il trequartista alle spalle della coppia d'attacco Giampaolo Musetti conta le assenze anche Epifani chiamato a rinunciare all'ex Jonathan Alessandro della quercia Palumbo e Speranza ma recupera Stefano Amadio dal primo minuto a dettare i tempi a centro campo alle spalle del tridente composto da Sarrizzo Pippi e Massa la partita si gioca sul filo dell'equilibrio in avvio botta e risposta al quarto d'ora Sissè molto attivo sulla destra mette in mezzo un buon pallone per Pippi la girata di prima intenzione del brasiliano termina fuori di un soffio sul capovolgimento di fronte Gianpaolo in diagonale centra l'esterno della rete la gara è viva e le due squadre rispondono colpo su colpo al 26esimo traiettoria insidiosa dalla bandierina di Stefano Amadio Natale sfiora quel tanto che basta per spedire in corner sulla ripartenza occasionissima per gli ospiti pregevole girata di bontà che costringe Sciva alla respinta sulla sfera si avventa Musetti che deposita in rete ma l'attaccante viene fermato in posizione di fuorigioco passano sette minuti e la regola non scritta più famosa del calcio si concretizza al 34esimo dalla bandierina quadro pennella il cross al bacio per la testa di Pippi che di rapina insacca sotto l'incrocio per l'uno a zero in favore dei padroni di casa il campo basso accusa il colpo e lascia qualche spazio in più alla manovra dei biancazzurri che al 38esimo potrebbero raddoppiare ma Natale è attento e pare in due tempi il diagonale di massa nella ripresa il campo basso parte subito forte nel tentativo di recuperare lo svantaggio dopo appena due giri di lancette Musetti scarica all'indietro per Van Zan la gran botta dal limite e la pronta risposta di Sciba che è provvidenziale anche sul successivo calcio di punizione la risposta del Pineto al 17esimo ancora su calcio piazzato di a quadro che termina fuori di un niente al 20esimo Sarrizzu rimane a terra per un problema alla caviglia ed è costretto ad uscire fuori in barella al suo posto entra Ciarcelluti che si rende subito protagonista al 27esimo con una gran sgroppata sulla fascia destra che lascia sul posto gli avversari e un diagonale che termina fuori per la disperazione di massa tutto solo sul primo palo e del nutrito pubblico del Mariani Pavone alla mezz'ora è invece il campo basso ad avere l'occasione giusta per pareggiare ma sugli sviluppi della punizione di Pizzutelli Musetti da due passi non riesce a sorprendere Sciva le due squadre si pronteggiano a viso aperto al 31esimo ancora un'occasione sull'asse Ciarcelluti massa con il colpo di testa dell'attaccante che termina di poco fuori brividi per i biancazzurri al 33esimo quando Tenkorang c'entra in pieno la traversa e Musetti non riesce a piazzare il tapin ultimo sussulto del match in pieno recupero quando il campo basso reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Marini sul tentativo di rovesciata di Energe non è dello stesso avviso il direttore di gara Pistarelli di Fermo che farà giocare fino al 53esimo ma il risultato non cambierà più grande festa in casa Pineto che scavalca in classifica proprio i rosso-blu contestati a fine gara dai circa 200 tifosi giunti dal Molise proseguiamo con la carrellata sulle formazioni abruzzesi di serie D ora parliamo del Giulianova Ramco fa illudere i giallorossi poi arriva il pari però con l'agnonese con la squadra di Del Grosso che si fa raggiungere quarto risultato utile di fila però per Suriano e compagni dunque un punto che comunque serve a muovere la classifica in casa giallorossa vediamo poi in basso mercato la società infatti tratta l'esperto Iannini nel mirino del presidente Bartonini l'ex mediano dell'Aquila e ora andiamo a vedere il servizio sul pareggio del Civitelle fra Olimpia Agnonese e Giulianova 1 a 1 finisce così il match al Civitelle tra l'Olimpia Agnonese ed il Real Giulianova un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre un agnone duplefas la prima volitiva la seconda più agonistica ciò dipende anche dall'età media del gruppo che deve ancora crescere all'undicesimo del primo tempo scambio corto tra Viscovic e Nicolao che taglia tutta l'area di rigore si inserisce perfettamente Diachite ma l'azione si conclude con un nulla di fatto al 36esimo tentativo dalla distanza di Viscovic tiro dal limite ma di un metro alto sulla porta al 40esimo il Giulianova in attacco lancio dalle retrovie Mejri anticipa Fioretti al 41esimo Dercole supera Bifulco ma è lo stesso numero 9 a commettere fallo sul diretto marcatore il signor Reda della sezione di Molfetta interrompe il gioco e assegna la punizione per gli ospiti al 42esimo conclusione di Minacori con il destro prova dai 16 metri ma la palla termina fuori la squadra di casa sembra più viva e caparbia ma dopo 60 secondi il Giulianova a freddo colpisce l'Agnone il cross radente dalla sinistra di Mellillo di Petto Suriano rinvia il numero 1 agnonese nella mischia fra Botta e Allegra provano a salvare la porta ma irrompe Ramuco che insacca in rete Olimpia agnonese 0 Rial Giulianova 1 si rientra dall'intervallo al secondo minuto di gioco Minacori inizia a dare la sveglia con un'azione personale tira ma Bifulco non si fa cogliere impreparato pochi minuti dopo il cross di Frabotta per Acosta fa ben sperare l'Agnone e se anche il numero 11 non segna in questa azione lo fa nella successiva al dodicesimo infatti Nicolao allunga per Acosta che addomestica il pallone lo difende e di potenza attacca segnando l'1 a 1 una risposta importante alle critiche che hanno coinvolto il calciatore durante la settimana appena conclusa al quindicesimo Cone e Minacori agguantano l'area piccola Malandra atterra Minacori ma per il direttore di gara non è rigore e ammonisce Minacori per simulazione l'episodio ha scatenato non poche proteste di tifosi al 26esimo degno di nota l'ingresso in campo al posto di Suriano di Vitelli che ritorna al Civitelle da ex al 36esimo Elefante carica il destro il tiro è centrale nessun problema per il portiere al tripice fischio Lagnone è ancora a caccia della prima vittoria e i giocatori si fermano a colloquio con i tifosi che li invitano ad un maggiore impegno Lagnone rimanda così l'appuntamento con la vittoria L'impresa della giornata è stata sicuramente quella messa a segno dal notaresco del presidente Salvatore Di Giovanni notaresco che è andato a vincere in casa della capolista recanatese allenata da Federico Giampaolo un 2 a 1 che ha permesso ai Rosso Blu di appaiare di raggiungere proprio in betta la formazione marchigiana Allora andiamo a vedere il servizio sulla vittoriosa gara del notaresco a Recanati Sotto lo sguardo attento di Salvatore Bagni campione d'Italia con il Napoli nella stagione 86-87 il notaresco compie l'impresa espugna il Nicola Tubaldi conquista la quarta vittoria consecutiva e vola in testa alla classifica proprio al pari della Recanatese giocatori rosso-blu che alla fine hanno festeggiato insieme ai propri tifosi arrivati numerosi nelle marche e felicissimi per il successo squadra di mister Vagnoni che ha saputo soffrire ma ha dimostrato anche grande cinismo con il tecnico che ha azzeccato ancora una volta i cambi non a caso decisivo è stato il marocchino Icramellà con una rete meravigliosa nel quarto d'ora finale recrimina la Recanatese che ha colto tre legni nel corso della contesa ma ha dimostrato comunque di essere in salute dopo il primo quarto d'ora di studio la conclusione dell'ex teramo Borrelli fa gridare al gol il pubblico di casa il pallone si stampa sul palo e i rosso-blu tirano un sospiro di sollievo al diciassettesimo però il notaresco passa sulla battuta del primo calcio d'angolo la traiettoria di Frulla è calibrata e pesca pomante che con uno stacco perentorio anticipa tutti e mette dentro il suo primo gol di stagione dura poco la gioia della squadra di Vagnoni visto che al diciannovesimo i leopardiani trovano l'immediato 1-1 con Ficola altro difensore centrale che mette alle spalle di Ginestra girando un calcio di punizione di Borrelli sempre dal piede del numero 10 nasce un'altra azione pericolosa per la Recanatese che coglie il secondo legno di giornata il colpo di testa di Pera infatti si stampa sulla traversa prima del riposo è ancora la formazione di mister Giampaolo a farsi vedere al 41esimo con un tiro dal limite fuori di poco di Pera e dal 45esimo con Nodari che sul secondo palo mette dentro di testa ma la sua gioia viene smorzata dall'intervento dell'assistente che segnala il fuorigioco dello stesso capitano giallorosso maggior pressione della Recanatese in avvio di ripresa due angoli battuti nel giro di due minuti ed un tiro di Pera con palla che sfiora di poco il colpo grosso al minuto 7 il notaresco agisce di rimessa e prova delle sortite ma al 22esimo è un super intervento di Ginestra ad evitare la capitolazione con Cancelli che ha sfiorato l'autorete nel tentativo di anticipare Pera grazie agli ignesti arrivati dalla panchina Romano e Cramellà i rosso-blu tornano a riaffacciarsi dalle parti di Sprecacè la cui uscita al minuto 28 è decisiva per chiudere lo specchio della porta a Sansovini ma al 35esimo nulla può l'estremo difensore l'azione è d'applausi e la conduce di Cramellà che va via sulla destra salta due avversari resiste alla carica di un giallo-rosso entra in area e mette dentro per la sua seconda rete in stagione i leopardiani si tuffano subito all'attacco alla ricerca del pari e dal 43esimo colgono il terzo legno della gara il colpo di testa di Ficola sui sviluppi di un angolo venne respinto dal palo e questa è l'ultima emozione del confronto con il notaresco che dopo 5 minuti di recupero brinda il successo insieme ai propri entusiasti tifosi partite penne Renato Curi-Angolana 2-0 Castelnuovo Bagigalupo-Basto 0-1 Angizia-Luca Albadriatica 2-0 Pontevomano-Capistrello 2-4 Nero Stellati Pratola Delfino-Flacco-Porto 0-2 Vediamo la promozione Gironea Morrodoro Piano della Lente 2-2 L'Aquila Rosetana 2-0 Montori 88 Torni in parte 4-3 Nuova Sant'Egidiese New Club Villa Mattoni 4-0 Fontanelle Mutignano 0-2 Celano Calcio Mosciano 0-1 Pucetta San Gregorio 1-3 Miano Realatria 2-3 Amiternina Pizzoli 1-1 In alto vedete la vittoria dell'Aquila con la Rosetana l'Aquila che si avvicina alla vetta il Girone B Il derby tra Ortona e Virtus Ortona termina con la vittoria dell'Ortona per 1-0 Fossa Cesia Ovidiana Sulmona 2-2 Silvi San Salvo 1-1 Casal Bordino Athletic Lanciano 2-0 Paldisangro San Giovanni Tiatino 1-1 Miglianico Bucchianico 6-0 Villa 2015 Fater 1-1 Scafa Passo Cordone Casolana 4-2 Raiano Elicese 2-3 Lasciamo il calcio per andare a vedere il basket la serie A2 Gramenzi vota gli Sharks Roseto mi piace il tecnico Terramano la guida di Latina parla e fa le carte al prossimo campionato serie C vince il Matelica con il Lanciano 75-71 in Cigold esordio positivo per la Magic Chieti con la San Benedettese 73-63 vediamo invece quello che è successo in Serie B la prima giornata del campionato nazionale cadetto con la vittoria di Giulianova nel derby con Chieti per 68-64 e poi l'Adriatica Press Terramo sfiora l'impresa Iesi Iesi che vince per 73-70 chiudiamo con il Corimaster Fidal con Alberico Di Cecco superstar al trofeo podistico di Piane d'Archi siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi il primo della settimana con Mattino 6 la nostra rassegna stampa tornerà domani come sempre alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi ricordo per quanto concerne l'informazione della nostra rete come sempre alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale questa sera alle 21 ovviamente non perdete l'appuntamento del lunedì in diretta dagli nostri studi con Enrico Rocchi per replay la trasmissione dedicata al Pescara per fare il punto della situazione in casa Bianca Azzurra alla vigilia del derby in programma fra una settimana domenica prossima ad Ascoli è davvero tutto grazie e buona giornata grazie a tutti